buongiorno ragazzi allora oggi è il dico per giusto per avere un'idea della data oggi venerdì 10 ed andiamo al lago d'orta ma più che altro per incontrare una famigliuola molto 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 interessante scoprirete con me di chi si tratta ciao ragazzi guardate un po chi c'è ciao hai visto permesso spondo qua eccoci qua gli alcolo balenos ci facciamo un bel aperitivo e poi ci mangiamo la pizza stasera ok ci facciamo le pizze e per ragioni di sicurezza per loro diciamo e mangiamo su nel camper loro perché chiaramente quel bambino che è un po' esagitato sai quei cagnoloni è sempre meglio non lo conoscendolo è sempre meglio prendere precauzioni quindi mangiamo di là ma che bravo che sei lui a casa sgrida i nonni consumano tanta acqua spegni l'acqua ciao ciao ma che bello bravo stai anche dentro le righe diventi però un po' esco guarda i bei colori bravo bravo e poi dicono che i camperisti non mangiano le scatolette poi dicono i camperisti che non mangiano le scatolette però tutti i bisogni muoti guardate qua va bene qui ho quanti camper e vediamo una bella lezione di yoga là in fondo online e noi ci mettiamo qui un attimino a chiacchierare adesso facciamo questa piccola scalinata per arrivare verso il lago e poi andiamo a mangiare la pappa buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito siamo qua all'aperto eh parziale vista lago ciao 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 decisamente c'è da quattro anni il primo e il secondo la raccolta di qualcosa di raccontare quello che stai facendo siamo in partenza per il Mottarone andiamo su a fare un escursioncino al Mottarone e mangiamo lì e poi ci salutiamo domani come cambia il paesaggio dall'estate all'inverno è bellissimo Siamo arrivati finalmente Salute 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 con la birra alcolica con la birra alcolica e il sprizzino con il vino il gabrio ha bevuto il succo no il tè, cosa hai bevuto? bitene anche lui abbiamo amici a pranzo su Big House oggi cena ormai? sì a cena è la bottiglia di vino che è andata quindi è cena guardate che panorama che c'è fuori uno, due, tre, quattro strati di montagna buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito andiamo in esplorazione adesso andiamo su quella collina sai che ho passato pure il mio coltello ha pure il coltello svizzero hai? Oh miseria Oh Oh Ok ragazzi Oggi spaghetti di riso Mezzogiorno e domenica E li mangiamo con aglio e olio e peperoncino Andiamo di là nel camper degli amici Con questo è tutto Vi lascio ad una bella dronata E nel prossimo video Ci sarà una intervista Che farò a questa famiglia Perché? Perché ha qualcosa di particolare Che non è stata Mai nel mio canale Come famiglia Quindi sapete che io ho intervistato tanti full time in camper Quelli che vivono in camper Di tutti i tipi, di tutte le specie Con figli, senza figli, singoli, eccetera Pensionati e non Ma questa famiglia ha una particolarità E la scoprirete nel prossimo video Guardandolo tutto E la scoprirete nel prossimo video E la scoprirete nel prossimo video E la scoprirete nel prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti